Mi chiamo Andrea Brancalion, sono veterinario da 25 anni, sono un allievo del maestro di noi tutti i veterinari omeopati italiani, il dottor Franco del Francia, il direttore della Scuola Superiore Internazionale di Medicina Veterinaria Omeopatica di Cortona, un bellissimo paesino nella provincia di Arezzo, nella Toscana, d'Italia, e da 1989 sono docente di questa scuola. Ho il compito di farvi un seminario che riguarda la visita omeopatica veterinaria, nei suoi tre aspetti fondamentali, nella clinica degli animali da compagnia, nella clinica degli animali da reddito e nell'approccio al paziente urgente. Ha delle caratteristiche leggermente diverse. Io mi auguro che questa cosa sia di vostro interesse e direi che, senza indugio, partiamo subito.